A tutti una buona giornata, le previsioni per oggi, inizialmente nuvoloso, qualche fiocco di neve sull'alta valtellina oltre 1500 metri, ma rapidamente apertura di schiarite sempre più ampie sulle prealpi e sulla fascia pedemontana, poi nel pomeriggio soleggiato ovunque e ventilato con favonio da nord sulle prealpi a tratti fino in pianura, le temperature massime attorno ai 15 gradi. A tutti rinnovo l'auguri di una buona giornata e di un buon fine settimana. Grazie.